L'ha sentita questa moda che ora c'è lo scambio di coppia? No, non mi piace a me! No? Il piatto è mio, me lo devo mangiare io! Io mi mangio il mio piatto! No, il piatto degli altri! Chi dici? No! Non mi piace, io sono gelosa! Magari nel piatto degli altri c'è un altro gusto! No! Io ho durato 54 anni di matrimonio! Non ne avete fatto mai il scambio di coppia con l'altra coppia? No, io sono gelosa! Io oggi ci taglio! No, non mi piace a me! Io essere gelosa! Sono gelosa sotto e sopra a tagliare! Ah, quindi pure sotto! Certo! E quella è quella che gioca! Lo sa come funzionano queste cose? Mai provato! Mai visto! Si vedono in un locale queste coppie e poi si scambiano! No! Però lei non l'ha provato mai, non lo sa magari... Io non lo proverò mai! E chi lo sa, magari lo provava? Ma qua! Il melone si prova! L'ha detto, ma l'uomo ce l'ho e me lo tengo! No, non mi piace a me! Ma mia mamma ha avuto 24 figlie! Di mezz'anni a Dio l'ha sposata tutti! Scambio dei cugnati, dei mariti, dei fratelli... Non ce ne fuori! Quanti figli? 24 figli e 8 aborti! 24 figli! Non c'era la biancheria, Dio mio! Si lavava la mano! Moda del seno piccolo! Ci sono le donne che ce l'hanno troppo grosso, che se lo fanno rimpicciolire! No, io sono contrario, perché io a me mi piace e me lo tengo! C'è un bene di Dio, da, scusando la frase, te lo levi! Gesù me l'ha detto e io me lo tengo! Che dici? La volta su la... Ah, va, grazie signore! Sa che ora si usa per i 18 anni il regalare alla propria figlia un paio di tette nuove? No! Io ci regalai la macchina a mia figlia! Perché la macchina sì e le tette nuove no? No, le tette io le ho fatte bello abbondante! Mi ci ho messo con... Proprio... Mi sono impegnata per farla perfetta! Mi ci ho messo con... Proprio... Se tutte le donne fossero come la signora Giussi, non ci sarebbe bisogno di fare lo scambio di coppia, lo possiamo dire? Sì, come no! Ve lo dico a questi che fanno scambio di coppia! Non fate scambio di coppia perché significa essere... B, 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 B! Come? B, 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 B! B, 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 B! Mi ci ho messo con... E la mia casa è Piazza Grande!